Diciamo le sollecitazioni che hanno avuto ad ascoltarmi dal momento che gli ho chiesto questa intervista che sarebbe la continuazione della conferenza stampa che ho fatto domenica 21 e che purtroppo ha avuto delle conseguenze nel senso che è stata interrotta continuamente non ho potuto spiegare tutto quello che pensavo di spiegare comunque cercherò anche di essere chiarissimo su quest'ultimo avvenimento delle tasse che ci sono state a Bova Marina volevo sollecitare l'altra minoranza del PD di Bova Marina a essere anche partecipe perché non riesco a spiegarmi gente che è stata votata con 930 voti che si alza dal Consiglio Comunale e se ne va senza fare un'opposizione ho detto sempre che fare opposizione è democrazia senza opposizione non è democrazia ritorno alle tasse e faccio presente una cosa che siamo stati gli unici in questo paese a dire come stanno le cose, a fare delle stanze a dire che c'è stato un errore tecnico che bisognava correggere e sul nostro input il sindaco domenica ha convocato i commercianti di Bova Marina e ha comunicato loro che veniva riformulato il tutto su queste tasse che erano molte sose specialmente per i commercianti bovesi che in questo momento sono quelli che soffrono di più nel paese e sollecito tutte le categorie bovesi a sostenere questa nostra minoranza di cambiare se può in quanto più saremo sostenuti dal popolo, da questa sollezione, più avremo la forza di andare avanti faccio appello all'altra opposizione di cambiare se può ancora una volta perché noi facciamo opposizione alla maggioranza non facciamo opposizione alla minoranza e continuo proprio per sollecitare questa minoranza ancora una volta per fare un'opposizione noi siamo opposizione per fare opposizione contro chi amministra in questo momento chi amministra purtroppo dobbiamo dire che sta amministrando ad uso personale non sta amministrando per la popolazione il sindaco mi ha risposto a quelle sollecitazioni che ho fatto io delle 700 dei termini e ha detto che Marino dà i numeri, no Marino non dà i numeri, i numeri di là lui perché Marino ha parlato con numeri chiari e è andato a vedere il libro dove ci sono protocollati tutte le determini e sostengo ancora una volta che le determini sono circa 500 fatte dall'ufficio tecnico poi saranno 390 di pagamento e 110 di incarichi però io ho detto che l'ufficio tecnico ha fatto circa 500 dei termini e su questo non mi sono sbagliato i numeri li dà il sindaco con questi numeri che ha dato sull'ufficio tributi perché non può un'amministrazione dire è colpa dell'ufficio che ha mandato questi tributi l'ufficio ha avuto le indicazioni che ha dato la delibera della giunta comunale quindi scaricare su un ufficio del comune è troppo facile bisogna prendersi le responsabilità e secondo me bisognava valutare prima quando negli elenchi dei tributi venivano iscritti gente che doveva pagare 14, 11, 10, 9 mila non possono dire adesso, non lo sapevamo e come fa un figlio a spendere dei soldi senza che il padre di famiglia sappia chi gliel'ha dati quei soldi e chi gliel'ha spesi oppure qualche altro modo di fare dell'amministrazione che secondo il mio punto di vista è errato e un'altra cosa molto importante c'è da dire anche che dopo sette mesi di amministrazione debbo dire che dentro il palazzo comunale si è ritornati dal 2003 al 2008 quando ogni ufficio viaggiava per fatti loro e in questo momento è un momento molto molto importante per la politica bovese e specialmente per il comune in quanto secondo il mio punto di vista va fermato questo sperpero di soldi sperpero di soldi che io ho controllato su tutte le determine faccio un esempio abbiamo comprato tre condizionatori uno di 2250, un altro di 1000 e un altro di 1200 e non ho capito il motivo perché ci sono queste tre differenze su tre condizionatori questo è uno dei tanti punti dove io mi batterò sempre per lo sperpero della gente in questo momento mi sento l'unico che sto combattendo per il popolo di questo paese per le tasse sono anche orgoglioso che mi fermano 10-15 persone al giorno per incitarmi a fare sostegno sono su questi punti che purtroppo sono dei punti essenziali perché secondo il mio punto di vista fra qualche giorno molti commercianti di pomarina dovranno abbassare le saracinesche e dico all'amministrazione di non essere un'amministrazione autoritaria di non essere un'amministrazione molto molto chiusa come si sta verificando in quanto secondo il mio punto di vista ancora una volta non c'è dialogo tra la popolazione e questa maggioranza questa maggioranza che si sta sfilando fra loro e lo si dimostra anche dal fatto che noi abbiamo un sito dove si chiama bohomenari alzati e facciamo solamente politica pulita non siamo stati mai accusati di niente siamo stati sempre perfetti e ci sono dei amministratori che si arrabbiano quando li mettiamo in foto e altri che godono quando vedono le altre foto e questo qua è un diritto nostro fare questo non è una cosa voglio dire che dà fastidio anche perché se mi mettono in foto a me in un video oppure in un giornale o su internet o su facebook io non è che me la posso sentire più di tanto perché ognuno ha il padrone di fare quello che vuole purché non non offenda la reputazione della gente comunque rinnovo il mio appello che noi della lista cambiare si può con quei 432 voti siamo i più siamo diciamo i più piccoli come forza politica bovese però siamo l'anima di questo paese facendo opposizione siamo l'anima affiaccando il popolo bovese a questa lotta molto importante su tributi che non è come dice l'amministrazione è facile dire pagate la prima rata e poi la seconda vediamo no non è così perché questa è una legge Monti che non sappiamo se poi la seconda rata se la si deve pagare oppure fra alcuni mesi dice non possiamo fare niente sapete non possiamo fare niente bisogna valutare molto e fare molta attenzione su quello che si recepisce da quello che dice l'amministrazione perché purtroppo si fa politica volevo aggiungere solamente un'altra cosa noi nelle conferenze che andremo a fare in questi mesi non faremo diciamo polemiche faremo solamente cose reali sui numeri che diamo diamo numeri reali se l'amministrazione è tornata indietro su queste tasse è tornata perché noi abbiamo fatto delle stanze con numeri reali numeri reali e su questo non ci sono dubbi porteremo sempre avanti una campagna d'opposizione molto molto libera molto regolare sempre dentro la legalità è difficile che noi potremmo uscire dalla legalità se non vediamo che dentro il palazzo comunale le cose non viaggiano verso il binario di legalità a quel punto parleremo sempre faremo sempre un'opposizione che viaggia sulla legalità che viaggia che viaggia che viaggia